No, soluzione! Revoluzione! No, soluzione! Revoluzione! No, soluzione! Revoluzione! No, modern! No, nation! No, revolution! Questi giorni, in questo periodo, assistiamo alla realizzazione di quello che è la politica migratoria europea. Una politica che è fin dall'inizio una politica fallimentare. Una politica che ha costretto migliaia di persone sull'isola e lo spotto dell'Egeo. Una politica che tramite gli accordi Unione Europea-Turchia del 2016 ha costretto milioni di persone a rimanere forzatamente sui territori turchi in condizioni inumane e non dignitose. Stop the war against these people, you! We are protesting now here, because there are people dying, there are people dying because of us. We are killing them, we are killing them because we rather protect the borders, we rather protect our safety and our wellness, rather than the lives of a lot of people that are escaping from the worst. We are killing people. We are responsible, we are the responsible for all this. You will not get us shut up. We'll talk forever and ever because we can't stand the fact that people are dying right now and we are the ones who are killing them. Shame my God, you're out. Shame! Shame my God, you're out. Shame my God, you're out. Quindi assistiamo alla caduta di tutti i meni, assistiamo all'a vera manifestarsi di quello che è una fondamentale politica europea. Per questo motivo oggi siamo qui presenti. Stop the deportation! Stop the deportation!